Ciao a io! Eccoci di nuovo con Rocket League! Con la nostra macchina pirata andremo a distruggere gli avversari quanto più possibile quindi non sarà una partita improntata alla vittoria ma insieme a una partita intrettata alla distruzione dell'avversario e infatti andiamo già a beccarci un gol addirittura oltre il centrocampo, guardate un po' già non giocava nessuno da questo vabbè stavo comunque dicendo andiamo a giocarci questa partita andiamo a giocarci questa partita con il nostro cappellino orpoteante nooo per quanto l'ho deviato e poi con una seconda demolizione ci serve il nostro e quello ci sarà cogliato ah i nostri compagni sono andati da fare nooo ecco il paese ci serve il nostro ci serve il nostro ma che cavolo poi c'è troppo che ce l'hanno cogliato ma siamo in due siamo in tre ah no, siamo in tre ah no, siamo anche un po' ho cogliato il 360 vediamo oh nooo oh nooo demolition 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 intanto andiamo nelle svantagge nooo spettacolare questo nome di rimbalzo c'è il compagnolo ha sbattuto all'altra manacchina ah spettacolare è stato quel po' un fantastico granetto vediamo che riusciamo ad urtare purtroppo nessuno nooo nooo vai a quel paese guarda un po' c'ha fottuto di brutto no ma serve il nostro bene così ottimo il gollo per noi vinci gioco 1 bravissimo fantastico questo gollo difficile peraltro il gollo lì in velocità in salto e molto angolati mi mi reputo tanto di facilità se l'accelerazione oramai era un'arriata enorme e andiamo addirittura sul 2-3 bene così grandi reverse ottimo il gollo da centro campo 2-2 si riparta poi dobbiamo prendere per primo la palla vediamo se riusciamo a fare il primo top il primo top si il primo top è venuto e vai con la nuova demolizione nooo ragazzi si porca in serio come è andata la palla lì ho provato ad inseguirla sopra dell'attraverso vado un povero vado un po' come lo sei guardato ora mi arriva no questo gollo vado un po' come lo sei in svantaggio a noi non ce ne può fregare di meno noi e il nostro bellissimo caffellino con l'elica radiante dobbiamo distruggere gli avversari distruggere gli avversari vado qua io lo cominciamo a essere vicino distruggiamo 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 destruggiamo destruggiamo no ma si spostano che le stavano bene così pareggio grande randavus fantastico randavus guardate un po' lì come va a deviare la palla ed è il 3 bene così bene così bravi ragazzi il nostro viene in accelerazione nooo cazzo tra l'angolino proprio l'ho preso mmm come sta a creare questo qui vai ti saluto con una pena demolizione ti bacio ti accarezzo ti distrugg ti distrugg e vai che ti distrugg ancora mamma come si può dire 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 e quindi ad un minuto e mezzo dalla fine della partita passiamo in svantaggio di un gol risultato di 4-3 versari vediamo cosa riusciamo a combinare a te a te ti faccio proprio del male mi dispiace per te che tu sia forno mi troppo a me stesso sfondo afk 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 prendiamo il nostro da qui andiamo in accelerazione oh fantastica demolizione con cattiveria andiamo anche a rinviare il pallone dammi qua il mosso che mi riesco a far male a qualcuno ma fantastico il 4-4 run house mitico guarda un po' dove l'ha tirato fenomeno 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 soprattutto il concorrente avversario che ci ha regalato il paretto a soli 38 secondi al termine a tutto questo eh qua avrei dovuto difendere qua avrei dovuto difendere ma è un po' difficile far goal eh perché giocare per far goal ma non lo voglio devo solamente distruggerli voglio solamente distruggerli così si fa distruggerli così si fa distruggerli distruggerli così si fa distruggerli 20 secondi 20 secondi nooo stavo andando anche a far gelato un saluto positivo ci vediamo al prossimo video ciao a tutti vi salute ciao a tutti